Salve a tutti amici di Marcosbox, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a Valve e la sua discesa all'interno del mondo Linux. Come ben sapete, Valve ha deciso di portare la sua piattaforma Steam su Linux e così fornire giochi all'interno di questo sistema operativo. Questa discesa non è stata vista tanto di buon occhio da alcuni turisti del mondo open source in quanto la vedono come una mercificazione. Altri invece sono entusiasti perché uno dei problemi principali di Linux che tengono alla larga determinati tipi di utenti è proprio la mancanza di giochi nativi perché sì, è possibile giocare con soluzioni come Play o Linux ma non sono di certo all'altezza di soluzioni native. Come ho detto, quindi, Valve ha deciso di investire e di portare Steam e alcuni dei suoi titoli più importanti su questa piattaforma. Uno dei partner più importanti dell'avvento di Valve all'interno di Linux è senza dubbio Canonical. Valve ha deciso di essere presente al Ubuntu Developer Summit che si darà a Copenaghen a fine mese quindi diciamo che così è un segno importante per stare a marcare la sua stretta collaborazione con Canonical. La domanda che viene adesso spontanea è ma secondo voi, senza Canonical e su diffondere il sistema operativo Linux alle masse Valve si sarebbe mai interessata del mondo di Linux? a voi la parola, a voi i commenti potete anche rispondere con un video di risposta o commentare qui sotto o sul post dedicato sul blog alla prossima, ciao ciao!